Scrivetemi qua sotto nei commenti cosa vi piace e cosa non vi piace della mia rosa e se l'avete già fatta ditemi la vostra rosa alfa da calcio Bella a tutti ragazzi e bentornati in questo nuovissimo video Oggi ragazzi siamo tornati con un nuovissimo video Finalmente ritorna l'editing, tra virgolette, non ci saranno nomi e cose ma almeno ci sarà una musica di sottofondo, qualche taglio, finalmente Ora ho un po' più di tempo che durerà per poco questo tempo che avrò però va bene ce lo facciamo bastare Oggi siamo con la mia rosa al fantacalcio Se volete che giudici anche le altre rose fatemelo sapere qui sotto nei commenti Stasera un'altra asta per voi sarà due giorni fa perché lo starete vedendo o di domenica o di lunedì Io comunque sto registrando di sabato mattina e sabato sera per un'altra asta Se volete anche vedere e se volete sapere la mia rosa anche a quell'altro fantacalcio Fatemelo sapere qui sotto nei commenti e soprattutto con un bel like Spollice tantissimo se volete altri video 500 fantamilioni, di regole speciali non c'è niente, c'è solo il più uno al portiere E niente, allora io ho iniziato, è stato chiamato Scesni Ovviamente poi nelle aste diventa tutto diverso da come te lo puoi immaginare Quindi volevo prendere il Patricio insieme a un altro portiere Poi per risparmiare ma in realtà è andato tutto in modo strano Era stata un'asta abbastanza strana perché mi aspettavo magari Tanti crediti spesi per i portieri Invece è stato chiamato Scesni e io ho offerto 23 Ho detto se arriverà tanto Hanno tutti lasciato e mi sono preso Scesni a 23 Gli altri portieri, ovviamente non è che sono andati a 500 Sennò sarebbe una cosa strana Però è andato via Andalovic a 25, due in più di Scesni E se non sbaglio è andato via Lui Patricio a 26 insieme a Magnan Che l'ha preso un altro Comunque tre in più di Scesni Che comunque regola l'aiuto dovrebbe essere una squadra più forte del campionato Poi per come è partita forse no Però Scesni a 23 me lo sono preso Poi ho preso Perinna uno Il secondo e poi ho preso Dragoschi Poi lo prende Milinkovic Savic Magari Gabè Però mi andava bene qualsiasi altro portiere Era uno comunque abbastanza buono per la panchina Non c'hanno tanto l'abbinamento casa fuori casa Però va bene così Passiamo ai difensori Allora i difensori Sono andato abbastanza come me l'aspettavo Sinceramente non volevo spendere tanto E ve li dico questo in fila Perché non è che c'è tanto da dire Ho preso i 6 a 2 Karsdorp a 5 Mancini a 5 Alexandro E poi aspettate Sono rimasto con questi 3 Poi non ho più chiamato nessuno Se sono ammazzati per Teo Che è andato a 45 Gosens Un altro 40 Se sono ammazzati Io ho aspettato alla fine E poi ve devo dire Che comunque hanno fatto la calcia a 6 Quindi non è che c'è tutta sta difficoltà Nel senso Ti fai una bella squadra Non c'è Magari stasera che lo facciamo a 8 Sicuramente sarà un po' più difficile Perché Non farò sicuramente una squadra così forte Un po' di meno Magari con qualche scommessa in più Quindi erano rimasti buoni i giocatori Ho preso Alexandro a 1 Gimsiti a 1 Chiellini a 1 Chiera a 1 E Ferrari a 1 Perché erano finiti Avranno tutti finito gli slot E quindi ho scelto 5 giocatori che volevo dalla lista Dei giocatori Svincolati a 1 Li ho presi Ho scelto io E ho preso i 5 Secondo me i migliori rimasti Però In questo momento ero quello che aveva speso di meno Giustamente dato che ho speso 25 per i portieri E 16 soltanto per i difensori Anzi no 17 Non mi ricordo Vabbè Quindi sono arrivato al centrocampo Con più crediti di tutti E volevo farmi un centrocampo assurdo E diciamo che ci sono riuscito Perché ho preso Federico Chiesa Che è stato chiamato per primo L'ho preso a 52 Non è male Non è male È un grande acquisto Poi ho preso subito dopo Che l'hanno chiamato subito Mkhitaryan A 40 E Una coppia chiesa Mkhitaryan E fuori di testa E E poi ho preso Malinoski a 20 Pellegrini a 29 E poi Basta Ci sono tantissimi ovviamente Squadre forti Come Questo centrocampo In questo caso Parlano del centrocampo C'ha Luiz Alberto Zielinski Castrovilli Comunque c'ha Bella gente Magari va in attacco Esagerato un po' di più Io ho cercato di Di farmi un centrocampo Fuori di testa E poi vedremo anche l'attacco Che comunque non sono andato male E E poi appunto Ho lasciato scorrere Ho fatto come la difesa Qua mi sono ottenuto 4 slot No se non sbaglio Uno l'ho preso prima È stato Perisic E poi mi sono lasciato 3 slot alla fine Quando tutti avevano finiti Centrocampi Sti e li ho scelti Ho preso Cajon Brozovic E Lucas Leiva Leiva e Brozovic Sono due certezze Sicuramente non saranno Proprio speciali Per il fantacalcio Però magari quando Non giocherà Chiesa Mkhitaryan Per infortunio Speriamo di nuovo Grattamose O per squalifica C'ho comunque due titolari sicuri Cajon E Perisic Sono un po' due scommesse Perché non c'hanno La titolari d'età Sicura Passiamo all'attacco Che è la parte La parte Bellissima La parte più bella Del fantacalcio Sono me Ovviamente l'abbiamo fatto Qua in In fila Non l'abbiamo fatto Con chiamata casuale Come farò stasera Però Qua è in riga Quindi siamo partiti Alle portieri Fin ad arrivare Agli attaccanti Allora È stato chiamato Dzeko È stato chiamato Insigne È stato chiamato Lautare È stato chiamato Dibala Vlaovic Osimen Ovviamente Niente di tutto questo Muriel È arrivato poi Ciro Immobile Che secondo me È il più forte Del Appunto È il più forte Di quest'anno Come attaccante È il top Dell'inattacco Ero rimasto Con 315 crediti Per gli altri Comunque Dato che avevano preso Già Blaovic Osimen Dibala Abram No Abram Dopo è andato via Immobile Sì Immobile Vabbè Dzeko Insigne Lautaro Erano comunque Con pochi crediti O meno di me Quindi Immobile Lo volevo già dall'inizio Volevo Immobile Abram Abram Poi vedremo Ma Ve lo dico già adesso Non ci sono riuscito A prenderlo Però ho preso Immobile A 185 Ciro Immobile A 185 Prende Un terzo No forse pure No sì sì Un terzo Forse pure qualcosa Di più di un terzo Del budget iniziale Però secondo me Mi sono preso L'attaccante Top 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 Poi da lì Veramente So Andato Lo lasciate Andare via Ibra Ciro Forse Ciro Lo prende Poi non ci sono riuscito All'ultimo All'ultimo lo prende Berardi E qui Mancavamo Io e un altro Mancava Berardi Come top E non avevano ancora Chiamato Top Vabbè Semi top Che non avevo ancora Chiamato E E lì ho detto Ce n'è una ancora forte Non lo devo dire Così me lo sarei preso Magari a 50 Così quello che è Tanto erano gli ultimi Crediti rimasti Però purtroppo Se l'è preso lui Che aveva più crediti E quindi Poi mi sono scelto 4 4 giocatori A 1 Che comunque Poi vi dirò Ma so Delusso Però Non vi ho detto Il secondo Semi top O forse top Non so Ditemelo voi qua sotto Sono più un semi top Ho preso il Gallo Rebic a 1 Semi a 1 E poi ho preso Il Bomber Secondo me Del Sassuolo Ho preso Raspadori a 1 Perché è rimasto Alla fine Gli altri comunque Ci hanno diciamo Un attacco Un po' più completo Però secondo me Io nella squadra Nella totalità Della squadra Sono un po' più completo Di tutti Poi ovviamente Il Fanta Calcio È pura fortuna E bisogna Vedere come vanno Le giornate Giorno dopo giorno Magari vecchi Quello che C'ha la squadra più debole Però in quella giornata Hai fatto 5 gol E vabbè È tutta fortuna Comunque Però Devi essere bravo A fare la rosa Secondo me È una buona rosa All'attacco Gli voglio da un 7 Mi do una minima valutazione All'attacco Gli voglio da 7 Perché Forse pure 7 e mezzo Comunque ho preso Il top del reparto Ho preso un semi top Però Forse pure Raspadori Un semi top Però non è che mi fa impazzi Forse diciamo pure 7 e mezzo 8 Dai Diciamo che se lo da Alla difesa Io gli do un 7 Gli do un 7 Perché ho risparmiato Ed è venuta anche una buona difesa Forse pure 7 e mezzo Il portiere secondo me È 8 8 e mezzo Poi io La Juve non è partita bene Però comunque La Juve Al centrocampo Gli do 9 e mezzo Cioè Il centrocampo è assurdo Se mi dovessero giurare sempre Chiesa Vigitore Marinoschi e Pellegrini Non so Come Cioè Un centrocampo più forte Non l'ha fatto nessuno Magari Adesso vedo al volo Un centrocampo che sì Per i due Milinkovic Va bene Però che sì Non tirerà i rigori Quest'anno sicuramente Cioè Non li tirerà tutti lui Da dove c'è pure Ibra Milinkovic Non è che segna così Segna ma non segna Magari come Come Chiesa Che è un attaccante Quindi Quindi Secondo me Secondo me ci sta Secondo me ci sta Ditemi qua sotto La vostra valutazione Fatemi sapere se vi piace questa rosa Ci vediamo con un prossimo video Che arriverà molto presto Sempre 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 Forza Roma Che non c'entra niente Però bisogna ridirlo Anche con la maglia dell'Arsenal E appunto Bella rosa Bella rosa Sono soddisfatto Magari domani O dopo domani Vi faccio uscire anche La rosa Che ho fatto All'altro bantacaccio Ciao » Ciao« Ciao » Ciao« Grazie a tutti.